Approvvisto per salutare Roberto Fiolini e mio compagno di squadra, ciao Roberto. Ciao a tutti, è sempre un piacere di capare. Calupo Roberto. Primo serio presidente del cittadino, il centro del trattato. Buonasera, che coperti l'ulto. Ciao a voi, grazie a tutti. Oh Calupo, buon divertimento. Oh Calupo, buon divertimento. Ivo è sempre più emozionante, è vero? Sempre di più. Vai, vai, vai. Occhio, buon divertimento. Occhio, buon divertimento.